Questo è Renz. Renz è un employe proattivo e progettivo con un ottimo salario e ottimi colleghi. Ma Renz è assicurato perché ha avuto abbastanza del coffe che ha dato. È il momento di crescere! È l'ora di domandare ciò che riservi! Unire la rivoluzione del coffe! Sì, sì, sì! Scusate la boxe del coffe di Mission Good Coffee su missiongoodcoffee.nl Sì, sì! Sì, sì! Sì!